Animali travolti, cani accarezzati, giocatori uccisi in eventi free rom Minchia Uccelli, oh Cecchino, devo prendere un uccello al volo Cioè Raga 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 in live Che cazzo ridi, è la sfida Sì sì È la sfida Dai capi In chat capiscono male Cioè Che mi passa, per godi Perché Ma facciamo sentire Cazzo puoi prendermi il volo di ok Ma io cazzo stai facendo No 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 Mi dissocio mi dissocio mi dissocio Mi dissocio No raga Non mi sento le guance raga Non mi sento le guance Minchia raga Ma di ok Porca madonna Questo qui deve mettere nel pezzo del canale Non so riprende il volo Io voglio rimettere la live indieta Uccelli in volo uccisi con un fucile di precisione Che devo di? Aia la guance Allora tol lo faccio subito C'è gente qua Ah Barry Ma c'è uno che mi spara Ma chi è che mi spara Ma che è sto deficiente Ma che è sto deficiente Ma che è sto deficiente Ma vieni fuori maledetto Ma che è orc verde? Jin suca orc verde? Si chiama ma che è? Jin...eh? Jin suca orc verde? Jin suca orc verde? Ma chi è che si è fatto un account del genere? Jin tonic suca orc verde Non ho capito Jin tonic suca orc Il cattolo orc Ma chi è che si è fatto? Raga no Raga no Raga Eh bravo Ma chi è che contagioso? Ma raga ma chi è? Ma ascolta E' stato facendo un casino da matti Vieni vieni Simone vieni Ma ascolta lei è che ha capito Si deve fare il colere a giocare La ultima è pericci dio boia No aspetta che è un Jin suca orcumente Cos'è caglio? No mi sto sparando aspetta che cazzo No mi sto sparando aspetta che cazzo No mi sto sparando aspetta che cazzo E' da bloccare dai una bella in genere Ma come invitano in party? Ma come invitano in party? E' grazie Jin suca orcumente Allora Cazzo Cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo sta succedendo in live oggi? No Ma che cazzo sta succedendo in live oggi? Lo so Allora Allora aspetta Madonna Ma che live è questa? Devo fare la compilation in questa live Ma cos'è c'è uno che si chiama Jinx mi sta sparando anche che cazzo ma è una presa per il culo ora pensavo proprio di si ma ha ammazzato anche ma guarda guarda c'è ok raga non la parola ma non la parola devo servire quattro persone ci sono dei psicopatici proprio